Rimane Alessio Bertucci, candidato sindaco per il Partito Democratico di Vigevano. È infatti saltata la riunione che era stata programmata lunedì sera per cercare un'alternativa che potesse raggruppare un'alleanza più ampia. Un incontro che avrebbe dovuto essere informale, ma che poi si è caricato ora per ora di un'aspettativa finita per essere la causa principale del suo fallimento. C'è chi l'aveva interpretata come un purparlechi, come un tentativo di riprendere un filo di una grande alleanza di fatto interrotto lo scorso inverno, che forse aveva già le idee molto più chiare, tanto che si parlava di un candidato sindaco. Il chirurgo Paolo Previde Massara, che avrebbe dovuto unire PD, Italia Viva, Polo Laico e altre forze civiche. È bastata una fuga di notizie alla vigilia della riunione per far scappare tutti i protagonisti attesi. Il sentiero del resto era parecchio stretto, perché se da una parte Italia Viva e Polo Laico non hanno ancora annunciato le loro intenzioni in vista delle prossime elezioni comunali, quello che avrebbe dovuto essere l'azionista di maggioranza della coalizione, il PD, il suo candidato l'aveva già annunciato, con tanto di voto in assemblea degli iscritti. Tanto rumore per nulla, insomma, a meno che non fosse proprio fare rumore l'obiettivo dell'iniziativa. Dal PD fanno sapere che nulla è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Oltre alla candidatura a Bertucci, si conferma l'alleanza con una lista civica di sinistra. Esistono trattative per allargare la coalizione, ma solo con altre liste civiche. che sembra escluso, almeno in questa fase, che il PD possa allearsi con altri partiti.